Una patologia cronica e invalidante che nel 2020 ha fatto registrare 26.735 ricoveri con un tasso del 13,7% di reospedalizzazione e del 9,2% di mortalità a 30 giorni. Questo è il peso dell'insufficienza cardiaca in Lombardia, dove il costo medioannuo di una persona che ne soffre è di circa 11.100 euro, di cui l'80% legato ai ricoveri. Prima causa di ospedalizzazione fra gli over 65 e prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari in Italia, l'insufficienza cardiaca è al centro di Orione.ita, osservatorio per la gestione delle cronicità promosso da Novartis. Una serie di think tank che hanno coinvolto esperti e manager sanitari di diversi poli d'eccellenza a livello nazionale per analizzare lo scenario, le criticità e i gap da colmare e definire le buone pratiche cliniche necessarie a un nuovo modello di presa in carico del paziente in Lombardia e con l'intenzione di avviare un progetto pilota nell'area di Milano. Gli obiettivi che noi abbiamo individuato sono innanzitutto quello di avere un approccio multidisciplinare che spesso non c'è e quindi il paziente spesso è costretto ad andare dal medico di medicina generale, poi dallo specialista senza che ci sia un programma coordinato. Quindi primo approccio multidisciplinare, secondo una stratificazione del rischio di questi pazienti che è seguito poi in base appunto al profilo di rischio da una personalizzazione della presa in carico del paziente. Ci sono dei pazienti che necessitano di un basso livello di cure assistenziale e quindi possono sicuramente essere coordinati molto bene dal medico di medicina generale, altri che hanno una maggiore complessità e devono ricorrere più frequentemente allo specialista. Un altro obiettivo è quello di poter seguire i pazienti con scompenso cardiaco da remoto avvalendosi della telemedicina, televisite e teleconsulti che facilitino i loro percorsi assistenziali e permettano di controllarli di più e meglio direttamente sul territorio, evitando accessi in pronto soccorso e ospedalizzazioni. La telemedicina è una cosa importantissima, nel momento in cui con le piattaforme di telemonitoraggio che già sono in atto a partire dall'anno scorso, una bilancia deve essere agganciata attraverso una modalità bluetooth, una scheda GSM che manda al centro servizi il peso e quindi vada in qualche modo ad inserire un alert qualora questo peso dovesse aumentare rispetto a quelle che sono le condizioni fisiologiche, che indubbiamente questo è un dato che ci permette di controllare a distanza la situazione del paziente compensato. Ci sono già esperienze in atto, non si sta parlando del futuro, si sta parlando di situazioni che in tutto il Paese sono già presenti. Purtroppo a macchia di leopardo sono presenze spot e indubbiamente sarebbe interessante che queste cose diventassero un patrimonio comune del Servizio Sanitario Nazionale. Ma com'è cambiato lo scenario a seguito della pandemia in Lombardia? Troppo è peggiorato perché tanti pazienti non si sono curati, si sono curati male e poi anche il Covid ha lasciato un po' come esito tanti pazienti scompensati, un po' perché hanno fatto l'infarto a domicilio, questo è stato un dato drammatico che abbiamo visto, e poi il Covid dopo i polmoni colpisce il cuore, tanti pazienti con scompenso cardiaco. Molto spesso questi pazienti scompensati non sanno di essere scompensati, li vedono innanzitutto i medici in medicina generale e rischiano di arrivare tardi in ospedale. Quindi una piattaforma consentirebbe di abbreviare i tempi, intercettarli prima, intercettarli prima vuol dire anche curarli prima e curarli meglio. Grazie